Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano due chilometri di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece si registrano code in uscita Firenze Sud provenendo da Bologna. Spostiamoci sulla 12 dove a causa di lavori si segnalano code tra il raccordo Luccaviareggio e Versilia in direzione Genova e tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. In Fipili sempre a causa di lavori 3 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze, 2 chilometri di coda invece in direzione Livorno. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!